Si sono dati appuntamento ancora prima dell'alba per essere sicuri di non perdersi un evento astronomico rarissimo e storico, il transito di Venere sul Sole. E queste sono le immagini della NASA. Astronomi, studenti, appassionati delle stelle e semplici curiosi che a Catania si sono ritrovati a decine sulle spiagge della playa. Nelle immagini proposte dagli astrofili catanesi si nota un punto piccolissimo in alto a destra, all'interno del disco solare. Sembra una macchiolina ma in realtà è Venere che attraversa l'astro in 6 ore e 40 minuti e tutto si conclude poco prima delle 7 di mattina. Molte persone hanno assiepato i telescopi che avevamo messo a disposizione dall'associazione, sia telescopi solari sia binocoli particolari, anche i famosi occhialini che servono a vedere. L'evento si vedeva anche a occhio nudo ovviamente con opportune coperture visive. Per chi non se l'è sentita di farsi questa levataccia deve mettersi il cuore in pace. Il prossimo passaggio di Venere davanti al Sole avverrà fra 105 anni, ovvero nel 2117. Comunque resta sempre la possibilità di vedere i tanti filmati su Facebook e Youtube, girati dagli appassionati delle stelle. Si immagina che essendo allineati sia Venere che il Sole la forza gravitazionale sarebbe risultata aumentata, avrebbe potuto creare qualche disturbo alla Terra, soprattutto ai terremoti. Ma devo dire che la forza di gravità di Venere è veramente insignificante. L'evento è stato seguito anche dai satelliti dell'Agenzia Spaziale Europea e dalla NASA per accogliere informazioni preziose e studiare più da vicino un pianeta che dista dal Sole appena 100 milioni di chilometri.